amici trader buongiorno a tutti allora eccomi di nuovo per presentarvi la mia nuova partnership con teletrade sono diventato agente di questo broker e broker regolamentato consob il quale ha appunto anche una sede qui a roma per cui ecco chi volesse aderire tramite tramite il mio link che si trova sul mio blog oppure posso posso anche inviare avrà da parte mia tutti i servizi che appunto io mettevo a pagamento gli avrà gratuiti dunque chiunque vuole provare appunto una demo di teletrade può farlo tramite appunto tramite il sito apri un conto demo loro usano la mt4 ecco questa è la mt4 con con i loro cross e ci sono forex poi ci sono molte azioni molte azioni americane come potete osservare e poi ci sono anche indici c'è l'aurostox c'è il kh40 c'è dax poi c'è lsp 500 c'è il nasdaq e poi c'è anche il crude e il brand c'è l'oro e l'argento e per chi volesse sono disponibili appunto i micro lotti per cui soprattutto per o perché all'inizio o comunque per tarare per tarare la le posizioni a secondo del capitale spesso i micro lotti possono fare comodo per cui ecco chiunque vuole provare la demo la scarica qui apre un conto demo apre la demo e può provare la demo io ho una cosa che vi invito a fare la diretta live per la per iscriversi alla diretta live si va nella sezione analitica vedete analitica diretta live e vi scrivete da qui e dunque io prima di continuare volevo un attimino farvi vedere lo staff allora io ecco io vi presento le persone che conosco allora il dottor di cortaconelli che conosco anche personalmente è uno dei responsabili appunto di teletrade e qui nella sede di roma e poi il dottor giancarlo della pietà il quale fa anche webinar corsi e soprattutto dirige la diretta live della mattina che io vi consiglio di provare c'è un mese di prova con la diretta live c'è anche il servizio segnali però il servizio segnali non è che danno i segnali e basta e finisce la spiegano anche perché si fanno determinate operazioni per cui per chi comincia o comunque vuole avere una certa sicurezza a stare al mercato è una cosa molto positiva e anche perché il trading ce la duriamo è molto imparare appunto quando quando si fa quando si fa la pratica o per chiunque volesse può aprire un conto corrente tramite il mio link che l'ho messo qua nel mio blog tradociclico.it alla sezione servizi analisi qua c'è il link per aprire il conto corrente e il versamento minimo sono 250 euro e per cui tutti i servizi che mettevo a pagamento che sono in questa pagina se voi fate il conto tramite il mio link con teletread saranno tutti gratuiti questo è per quanto mi riguarda e in più ecco come dicevo se voi siete clienti di teletread potete usufruire tutte le mattine della diretta live condotta dal dottor giancarlo della pietà vediamo un attimino qualche qualche stralcio ecco questo è il canale di youtube a cui potete iscrivervi di teletread questa è una delle dirette live condotto dal dottore giancarlo della pietà vedete per cui voi avete anche tutte le spiegazioni del perché si fa una certa correzione anche se magari come me voi siete abituati ad analizzare con tecniche differenti che possono essere i cicli di borsa come faccio io oppure oppure con altre tecniche però la messa al mercato dell'operazione viene messa considerando anche altri parametri e qui praticamente vengono vengono presi in considerazione proprio proprio questi parametri per poter operare il reale bene quindi detto questo ecco vi invito ecco vedete la diretta live giornaliera qua potete vedere sul sul sito tutto quanto di cui avete bisogno per cui ecco vi invito a visitarlo a fare la prova appunto sia con la mt4 e un mt4 di diretta live con il servizio segnali in cui verranno spiegati perché si fanno determinate operazioni non è servizio segnale ma è una cosa molto più completa e in più da parte mia potete avere gratuitamente se avete il conto tramite il mio link tutto il diciamo il pacchetto che ho sul mio sito per quanto riguarda i cicli di borsa bene io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon weekend